Ciao ragazzi, sono Mario. Oggi voglio presentarti una nuova sezione, una sezione che sarà veloce, pratica, insomma per chi non vuole perdere tempo. Sarà quella sezione che ti darà un consiglio immediato, quindi un consiglio su come stimolare determinate fasce muscolari e dare dei nuovi progressi, quindi di una nuova energia appunto ai muscoli. Sarò immediato in queste spiegazioni, ovviamente tralasciando molti dettagli, molti ragionamenti da fare, che comunque ti invito ad andare a vedere nella sezione il coach ti spiega, oppure il coach ti consiglia, dove ci sono dei video interamente dedicati su come fare gli esercizi, come svilupparli, come educarli, eccetera, eccetera. Quindi questa sezione sarà dedicata proprio a quella tipologia di persone che vogliono essere rapidi e veloci nell'allenamento e vogliono il consiglio così, a schiocco di vita. Quindi lascia un bel mi piace così aiuti a supportare tutto questo grande progetto che ne parlavo appunto qua e ti ringrazio come sempre, ti dico allenati bene, ciao!